ciao a tutti e bentornati sul mio canale parliamo di cani e dintorni con fabio marcone oggi con me sarà e paolo che mi aiuteranno ad insegnare un nuovo tricks a kim volevo insegnarle il passo del leopardo ariel già lo sapeva fare vediamo un attimo se riesco a farlo rifare che tanto che che non ci lavoro e poi proviamo a insegnarlo a kim come avete visto ariel si ricorda benissimo l'esercizio facciamo un'ultima volta ariel è molto volosa quindi uso il bocconcino adesso insegniamo a kim che non ha mai fatto questo esercizio iniziamo dalla posizione di terra leopardo brava brava leopardo vedete kim già segue la mia mano questo momento kim sta andando in stress perché non ha ancora capito cosa le sto chiedendo quindi lei sta ragionando che cosa mi sta chiedendo e tenta di fare varie cose non appena riesce fa la cosa che io mi aspetto verrà premiata grazie a tutti 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 allora cercare di finire l'esercizio sempre in positivo vedete che il cane inizia a stancarsi datele un po di pausa finite la sessione di addestramento in modo positivo le date un po di pausa e poi ricominciate ora vedo che Kim si inizia un po a stancare riprovo un'altra volta e poi le do un po di pausa leopardo brava leopardo bravissima leopardo brava 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 leopardo ok finiamo finiamo questa sessione in modo positivo tra 5 minuti ricominciamo 10 minuti il tempo che lei si riposi un po ciao 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 ciao